e decide che non puoi far più parte della sua vita. A quel punto può avvenire lo scarto vero. Il love bombing non c'è stato. È anche una svalutazione vera e propria. Non c'è stata. Un gaslighting vero e proprio non c'è stato da parte del narcisista. E questo è importante. Perché se non c'è mai stato un grande love bombing e non c'è stato un grande gaslighting, quindi i due poli opposti, le fasi opposte, non ci sono state nel ciclo narcisistico, vuol dire che il narcisista ti ha voluto tenere per compagnia, a tempo.